Salve ragazzi e benvenuti anche quest'oggi sul mio canale YouTube Walkout Cycling Program, un canale, come ben sapete, dedicato specificatamente al ciclismo e alla preparazione stagionale del cosiddetto ciclo amatore, sia per quanto riguarda la mountain bike che per quanto riguarda la bici su strada. Oggi parliamo di agilità, un allenamento in questo periodo, cioè nella seconda settimana di marzo, specifico per chi eseguirà 5 sedute alla settimana. Iniziamo subito, per quanto riguarda l'allenamento agilità, a parlare di riscaldamento. Se andiamo ad eseguire l'allenamento sui lulli, il nostro riscaldamento sarà all'incirca di 10 minuti, mentre su strada sarà di circa 30 minuti, da dividersi in parti uguali tra fondo lungo, fondo lento e fondo medio. Passiamo poi alla parte centrale dell'allenamento, dove per primo affronteremo un fartlek con un cambio di cadenza, dove alterneremo dei lavori a fondo lungo a 90 RPM e lavori in soglia a 100 RPM. Andiamo poi a parlare dei due circuiti che affronteremo quest'oggi. Il primo circuito andrà ripetuto quattro volte e si partirà da una cadenza di 80 RPM fino ad arrivare a una cadenza di 110 RPM. Passiamo poi al secondo circuito da affrontare. Un circuito con un sistema piramidale, dove si partirà da 100 RPM fino ad arrivare a 130 RPM. Da lì torneremo indietro e torneremo fino a 100 RPM. Defaticamento. Per quanto riguarda i lulli, avremo un defaticamento a fondo lungo di 10 minuti. Per quanto riguarda la parte su strada, invece il nostro defaticamento sarà di circa 30 minuti, da dividersi in due parti. Una parte a fondo lento e una parte a fondo lungo. Come sempre ragazzi, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube. Ricordatevi di attivare la campanellina delle notifiche per non perdere neppure il manovamento e per rimanere aggiornati. Mi raccomando, mettete un like. Sponsorizzate il canale YouTube con i vostri amici, con i vostri compagni di squadra, tramite i vostri social. E noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!